Oh tu, creatura di sogno, che alieti con... Non dicevo a lei, che alieti con la musica dei tuoi strumenti, questo triste e irriverente mondo. Consola questi tuoi figli prediletti e aiutali a immaginare un tempo futuro. Sì, immagina, immagina, immagina un tempo prossimo, un tempo più armonioso, un tempo più felice, un tempo senza i Poo e i figli dei Poo. Immagina, immagina un tempo senza flauti obbligatori alle medie. Immagina un tempo in cui tutti insieme si andrà a ascoltare la musica dei vecchietti e non solo quella dei giovanotti. Immagina, immagina un tempo in cui non ci sia più una banda Osiris che suona fuori tempo. Immagina, immagina un tempo in cui non ci sia più una banda Osiris che suona la musica dei tuoi strumenti. Immagina un tempo in cui non ci sia più una banda Osiris che suona la musica dei tuoi strumenti. Immagina un tempo in cui non ci sia più una banda Olly. Immagina un tempo in cui non ci sia più una banda Osiris che suona la musica dei tuoi strumenti. Immagina un tempo in cui non ci sia più nella musica dei tuoi strumenti. Grazie a tutti.